Ciao ciao! E ci diciamo? Allora abbiamo ricevuto, ormai bene, sono... Ne ho piano sopra i capelli delle lettere dei morti i capelli, però... Delle volte sono degli sconti a cui non posso rinunciare. No, avevamo un po' più di soldi di questo mese. Avevamo, dico, avevamo. Sì, perché sono la fine del primo, quello ha detto. Questa qua, con gli sconti cede della primavera, eh. 1,99, 2,99, 3,99, 4,99. Si deve l'indirizzo, l'aria. Ma dove? Evitiamo. Vabbè, se ci venite a cercare io non vi apro. Non sono mai in casa, non ho. Non ho, non posso. Non apro gli sconosciuti. Se siete conosciuti vi dovete mettere un bel cartellone. Eh, vabbè. Eh? Vabbè. Un bel cartello. Oddio. Come si fa? No, bisogna guardare quello che c'è qui. Ah, vabbè. Che problema c'è. Allora. Partiamo con... Un respiro più. Il tonico viso. Al mandorle dolci. Abbiamo pagato ben... Abbiamo pagato ben... 2 euro. Ben 2 euro. 1,99. 250 millilitri. Non lo so com'è perché non possiamo aprirlo. Abbiamo un altro aperto. Abbiamo l'acqua di rose. Che abbiamo trasportato nel... Cosino dell'acqua micellare di Chico. Molto bene. Ne sprechi molto meno. Quello che chiusi. Perché noi ci si rovesciava nel lavandino. Nooo. Praticamente... Era più quella che... Che perdevi. Poi questo ve lo posso far vedere ma non credo che vi interesse più di tanto. Cioè nel senso... Aperto. Già il correttivo S.S. Per le impurità. Cioè me lo scrivono lì. Sembrava che ci fosse scritto in aria comprami. S.S. S... S... È la stessa cosa. È della linea pelle pura. È uno sticchino così con... Sembra che voglio la bocca all'alto. Nooo. Oh ioi. Vabbè. Quanto dopo me lo darò. Vabbè. E sono anche questi. 1 euro e 99. Cade un euro. Sono 15 milioni. Se lo dovete... Applicare sul brufolo. Fino a che non va via. Quindi in testa è lì. E via. Ma tiene sera? No c'è scritto qua finché non va via. Poi abbiamo preso. Deve essere buono questo. Burro di cacao all'olio d'oliva extravergine. Burro? Burro. Non si ente. Sono i 5 ml. Scadenza di 10 mesi. Non la prendiamo perché... Abbiamo già una a testa. Già due aperte. Quelli che avete una a testa. 1,99. 1,99. Poi questa che è la maschera peeling. Piloff. Piloff scusate. Acido gliconico. Piloff mask. E sfogliante. E di quelle che ti si seccano e levi come una pellicola. 2 euro e 99. 100 ml. E 100 ml. Poi dovevamo arrivare a 10 euro per avere un rossetto a gratis. Allora io penso tanto per rimanere il concetto. No. Diciamo che a me servono sempre. Più a lei che a me. Però io se non ho il burro cacao, se non lo uso per due giorni... Le labbra... Non ti dico che mi diventano come lei, eh? Mi sono tutte screpolate. Perché lei se le stuzzica. Però mi sento proprio che mi manca. Quindi mi sento un po' più secca. Mi si iniziano a formare le pellicili qua. Quindi... No. Vabbè. Ah! Questo è lo stick labbra alla propoli. Ah! Per me era il propoli. C'è la propoli. Eh. Papà reale. Papà. Papà. Ah! Facci sognare. Dacci la tua papà reale. Ma sei fuori. Ah! Basta. Protettivo. Emolliente. Ma è... Emolliente. Per labbra secca? Dai! Protettivo. With mouth secca. With probolese. Quindi quell'olio d'olio d'oliva sarà di l'aria. E questo sarà mia. E questo che stava. Perché? Così. Ah! Perché c'è l'olio d'oliva. No. Io ci arrivo piano oggi. Ok. Costava. 1,95. I pani. E ci hanno regalato rossetto rosa incanto. Sì. 2,99. E questo. Mi piace perché è già sfondato. Sì. L'odorina è buonissima. Per sotto è comodo. No. 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 Non lo so. No. 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 messa di Chico, a Luca, la cassiera, che qualcuno ne abbia parlato male come noi, perché ora è tutta simpatica, tutta farina. E oggi siamo messi a parlare della nostra collezione di trucchi, io a lei non gli ho mai spiccicato parole, l'altra volta mi fa, vuoi un salviettino struccante? Appena entrata, non aveva ancora fatto niente? No, avevo qualcosa sulla mano, il blush. Insomma, vi aspetto per la prossima collezione, sì, per la prossima collezione allora, veramente, siamo piene, abbiamo adocchiato il blush di quella collezione. Oh, sì, sì, sì. Ah, è bello. Avrà mica visto l'ispezionatrice di reparto, come si chiama? Caporeparto. No, caporeparto? No, è dell'ospedale. Va bene, la capetta, la dirigente, deve aver visto un video nostro, di qualcuno che ha parlato male di lei, proprio di Luca, e gli ha detto qualcosa, se l'è visto lei, spero di no, o spero di sì, tanto per il fatto che è oggi. E niente. Beh, se vedi questo, ciao, brava, continua così, la sua volta porta dei campioncini per me. E poi, vogliamo la tessera di Kiko? Di Kiko? Gratis. Chiaro, perché ora spendere 5 euro, anche solo quello dell'OVS, io dico 5 euro? No. Per attivare una carta, no? E per cacchio. Soprattutto che mi devo anche scrivere il foglietto. Dio. Per pagare anche 5 euro. Ma poi c'è anche le domande, fai acquisti online, sei in un social network di OVS. Ma che minchia resa. No, che minchia resa. Se ci sono, non lo sapevo. Esiste una pagina di OVS su Facebook, io non me ne rendo conto, non lo sa. Io ho messo sì, sì. Pau, boh. Che sei, prego. Oh, mi va a dirare i messaggini. Io, ragazzi, io sto vorremmo se c'è il gelato che mi aspetta. Devo bere il gelato. Devo bere il gelato. Ciao, ciao. 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 Vi faccio vedere? Ciao. 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 Ciao.